Scuole ancora nel caos a Napoli e provincia, un'altra giornata senza lezioni, bloccate dagli ex lavoratori socialmente utili impiegati nelle pulizie che hanno occupato diversi istituti, anche scuole materne ed elementari tra le proteste dei genitori e dei dirigenti scolastici. A Pozzuoli la direttrice del primo circolo didattico Guglielmo Marconi, 1150 alunni, è entrata di notte nell'istituto per poter lavorare, chiede ai lavoratori di cambiare forma alla protesta e di liberare le scuole e si rivolge alla prefettura. Un'altra dirigente del diciannovesimo circolo didattico di Napoli tra i rioni Stelle Sanità ha denunciato gli LSU e si dice pronta a chiedere l'intervento della polizia. Abbiamo occupato le scuole, chiudendoci dentro, sperando che le istituzioni ci chiamino per risolvere il nostro problema, anche perché è imminente. Oggi ne abbiamo 18 e il primo marzo noi inizieremo a lavorare a 25 ore, non più a 36, con un decurtamento del 50% dello stipendio. Occupare le scuole, non permettere ai bambini di andare alle scuole credo che è una cosa ingiusta, ma verso tanta gente che lavora magari dovrebbe andare al lavoro, i bambini devono continuare ad andare a scuola. Tantissimo arrabbiate anche perché è un disservizio importante che si crea per i nostri figli. Siamo arrabbiate perché comunque è giusto per loro, per i loro problemi, però non penso che questo sia il modo giusto per risolvere i loro problemi.